Si è concluso con condanne severe, una serie di pene accessorie, la confisca di beni mobili e immobili a tutti gli imputati, fino a raggiungere la somma di 90,8 milioni di euro e una provvisionale di 15 milioni di avversari al Ministero per lo Sviluppo Economico, il processo è in corso a Milano su una presunta truffa ai danni dello Stato. La terza sezione del Tribunale di Milano ha condannato Fabio Riva, figlio dell'ex patron dell'Ilva Emilio, morto qualche tempo fa, a sei anni e mezzo di carcere per la vicenda di una presunta truffa allo Stato da circa 100 milioni di euro. I giudici che hanno condannato Riva Fire S.p.a. a una sanzione di un milione e mezzo hanno inflitto cinque anni di reclusione ad Alfredo Lomonaco, ex presidente della finanziaria elvetica Eufin Trade, e tre anni ad Agostino Alberti, allora consigliere delegato della svizzera Ilva S.A. I giudici della terza sezione penale hanno anche disposto l'interdizione dei pubblici uffici perpetua per Fabio Riva, vicepresidente della società, e per Alfredo Lomonaco e per cinque anni per Alberti, consigliere delegato dell'Ilva S.A. La pena inflitta a Fabio Riva è di oltre un anno più alta rispetto alla richiesta del pubblico ministero Stefano Civardi. Secondo il filone d'indagine, uno dei tanti aperti in procura a Milano sul gruppo Ilva e nel quale era imputato anche Emilio Riva, sarebbe stata creata una società ad hoc in Svizzera, l'Ilva S.A., per aggirare la normativa sull'erogazione di contributi pubblici per le aziende che esportano all'estero.